ciao oggi vediamo la prima maglia della germania per i prossimi mondiali in catar in edizione player la maglia dei calciatori da utilizzare durante i mondiali del prossimo anno in catar la maglia home della germania 2022 combina una base bianca con il nero e l'oro metallizzato il nome ufficiale del colore oro è tactile gold metallic come suggerisce il nome questo colore oro possiede un aspetto metallico la caratteristica principale è una striscia verticale nera centrale la striscia è simile alla maglia da trasferta di euro 2008 come con la maggior parte dei precedenti divisa da casa della germania la bandiera tedesca è incorporata nella maglia la bandiera è visibile sul colletto e in termini di una striscia che va dai lati all'orlo inferiore pantaloncini neri e calzettone bianchi completano il kit anche se sono disponibili anche pantaloncini bianchi alternativi wow questa maglia è bellissima nella mia personalissima classifica questa prende 5 stelle il massimo avevo visto anche la versione da trasferta che trovate qui sopra questa è altrettanto bella e sarà secondo me una dei più belle dei prossimi mondiali la maglia è fatta veramente molto bene con un tessuto stupendo con tutte le patch applicate nel modo giusto e al costo che vedete qui sopra è veramente incredibile un affare da non perdere vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia che ha una qualità eccezionale e dei tempi di spedizione ottimi ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità quindi continuate a guardare il video nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale fatemi anche sapere cosa ne pensate della maglia nei commenti ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player